La statua internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina è stata venerata ad Imperia nella Basilica di San Giovanni Battista da giovedì 3 a domenica 6 ottobre. Si è trattato di una rappresentazione itinerante per le parocchie italiane fatta sul calco della rappresentazione linea realizzata nel 1947 su descrizione della veggente Suor Lucia. È stata accolta nella chiesa negliese giovedì pomeriggio, 4 giorni di raccoglimento religioso con esposizione della stessa statua all'interno della Basilica ma anche riunioni di comunità all'interno delle opere parrocchiali. Domenica pomeriggio la Santa Messa Solenne conclusiva presieduta da Monsignore Ennio Bezzone, prevosto della Basilica con il rito di consacrazione della parrocchia di San Giovanni Battista in Imperia Oniglia alla Madonna del Rosario. Al termine della celebrazione liturgica le varie realtà della parrocchia hanno offerto un omaggio floreale alla Santa Vergine Maria.